Ciao a tutti amici e amiche, buon inizio di settimana. Eccoci qui, naturalmente, ieri abbiamo parlato della Supercoppa, oggi naturalmente parliamo della dodicesima giornata della Serie B, perché è tornata in campo il campionato cadetto, ricordiamo invece la Serie A tornerà in campo la prossima settimana, comunque è tornato in campo il campionato cadetto con tre veramente partite interessanti, tra cui uno è il derby di Verona. Iniziamo praticamente da questa giornata, sono stati segnati ben 21 gol segnati, c'è stato un pari con gol, 5 vittorie esterne, nessun, naturalmente, risultato a occhiali, ecco, se vogliamo dirla tutta. Allora, iniziamo dalla partita, dal lancio match, dalla partita della paura, quella che vedeva il Tavagnaco contro il Freedom, la vince il Freedom. Quindi, andiamo a vedere, succede tutto nel secondo tempo, Freedom avanti al quinto minuto della ripresa con Beatrice Bruni, poi, nel recupero praticamente dal match, il quarto gol di Giada Bourbassi, dopo altri due minuti, arriva il gol della bandiera per il Tavagnaco della solda, Benedetta Marani, quindi vince il Freedom di Petruzzelli. Quarto gol, naturalmente, per quanto riguarda Tavagnaco, naturalmente, di campi, è stato veramente un passo falso, anche in ottica veramente salvezza. Quindi, vince il Freedom, che vince, prende questi, veramente, tre punti pesantissimi. Come si poteva immaginare, vince anche il Bologna sul povero Ravenna. Difficile dire, alto sul Ravenna. Gara che viene aperta da Nicole Decanal al diciottesimo del primo tempo, poi raddoppia ancora le fessine con... Raddoppio, non si sa chi l'ha segnato, perché praticamente non c'è scritto. Nella ripresa arriva al sessantaquattresimo il gol di Zala Kustuin. Poi, Matilde De Matéis, al ventitreesimo, sempre della ripresa, naturalmente, trova il gol del 3-1. Chiude il match, naturalmente, la solita Martina Germetti per il poker della squadra, naturalmente, di Bragantini. Quarto gol anche per Martina Germetti, insieme, naturalmente, alla Slovacca Kustuin. Quindi, vittoria importante del Bologna, ricordiamo Bologna, che veniva dalla sconfitta, però, dei liberati di Terni, contro una Ternana che, naturalmente, fa a vincere anche a Cesena. Attenzione, questa è la prima sconfitta casalinga del Romagnole. La squadra di Melillo, quindi, prende i tre punti, li fa grazie alla doppietta di Fiorin, Simone, Juan, al venticinquesimo del primo tempo e al settantunesimo. La solita Martina Secchi per la squadra, per le Romagnole, per il gol che accorcia le distanze. Poi, non è servito il forcing finale. Martina Secchi sale a sesto gol in campionato. Insomma, è un buon risultato anche di Martina Secchi. Vince il Parma di Colantuono in quella di Genoa per 2-0, con la doppietta, naturalmente, di Kelly Gago, tutta nella ripresa, praticamente, all'ottavo minuto e al venticinquesimo. Quindi, il risultato inglese è per Parma. Ed eccoci al derby di Verona tra Chievo ed Ellas. Un derby combattuto. Diciamo, al primo tempo, le due squadre hanno dato tanta battaglia, ma le emozioni sono state veramente poche. La gara, però, si è sbloccata più nella ripresa, perché al 47esimo arriva il gol di Rachele Peretti, l'Es, in parte, Clevense, naturalmente, che trova il vantaggio. Poi, naturalmente, sembrava che il Verona era in pieno controllo della partita, ma, invece, al minuto, praticamente, 83, arriva il parerio della sopra. Roberta Picchi, eccola qui. Ormai, sempre più Bomber, Clevense, veramente, a settimo gol in campionato per Roberta Picchi. Insomma, c'è da segnalare nel finale, che Chievo è andato vicinissimo, veramente, a vincere il derby, con una bella conclusione di Alice Begala, verso il set che, però, ha sfiorato, veramente, il palo di Margot Shaw. Quindi, veramente, sarebbe stato una cosa. Diciamo la verità, un pareggio giusto, se vogliamo dirla tutta, però, se vogliamo dirla tutta, se nel finale, diciamo, il Chievo ha avuto qualcosina, veramente, di più rispetto all'Ellas Verona. Questo, bisogna dire la verità. Quindi, risultato importante, naturalmente, questo, diciamo, un pareggio che, possiamo dire, non accontenta nessuna delle due squadre, forse qualcosina di più, accontenta il Chievo, che, naturalmente, finalmente, non perde un derby, mentre Verona è il secondo pareggio consecutivo, diciamo, si aspettava la squadra di Pacchera una vittoria. andiamo, invece, alla partita tra Pavia Academy e Arezzo. Finisce 5 a 2, manita, quindi, veramente, del Arezzo di Pavia. Andiamo a vedere le marcature, un po' un casino meno, vabbè. Allora, doppietta di Giulia, tripletta di Giulia Dias. Al nonno, al ventiduesimo, e al ventiotesimo della ripresa. Poi, al venticinquesimo della ripresa, Josie Shoys Asamoah, per il Pavia, naturalmente. No, scusate un attimo, ripartiamo. Allora, ripartiamo tutto, perché qua, veramente, mi dà fastidio come mettono i gol. Vabbè, ripartiamo. Allora, apre marcature Giulia Dias. Ferrer al nonno minuto. Al ventiduesimo, raddoppia ancora lei, Dias Ferrer per la doppietta personale. Venticinquesimo, Assolini per il 3 a 0, pensate un po'. Arriva il 4 a 0, nella ripresa al quattordicesimo, con Isotta Nocchi. al venticinquesimo, al venticinquesimo, il 1 a 4, praticamente, di Jais Asamoah. Ancora lei, Giulia Dias Ferrer, tripletta personale, al ventiotesimo della ripresa, e chiude questo, veramente, festival del gol, se vogliamo dire, il secondo gol di Pavia, con Giulia Avalone. quindi, veramente, giornata bellissima, proprio, per l'Arezzo, di Eracleus, e, veramente, importante, tripletta, Giulia Dias Ferrer, che si è portata a casa, anche il pallone, della partita. Andiamo, invece, alla vittoria, clamorosa, questa, della RIS Women, sul Brescia. Brescia non sta andando, per niente bene, pareggio a Verona, sconfitta a Roma, insomma, due trasferte negative, da parte, della squadra di Nicolini. Andiamo a vedere, tutti i gol, tutti nel primo tempo, praticamente, con Anna Clement, Clemente, al nono minuto, al dodicesimo, Neide Nova, per 2 a 0, al sedicesimo, Laura Petrova, per i 3 a 0, praticamente, in 16 minuti, le leonese, hanno preso, tre gol. Nella ripresa, il gol che accorcia, diciamo, le distanze di Nina, Cari, Stapfed, per le rondinelle, naturalmente, è, che dire, naturalmente, una vittoria, pesante, proprio per l'Ores, con una squadra, veramente importante, come il Brescia, complimenti, veramente, alla squadra, di Galletti, per questo, veramente, risultato. Andiamo all'ultima gara, che è quella, tra San Marino, Academy, e Lasso, l'avevo detto, non sarebbe stata, una vittoria, in goleada, per la squadra, di Grassadonia, e l'avevo, anche anticipato, il gol, è finita, infatti, uno a due, il risultato di misura, d'apporturamento, per la Lazio, insomma, in San Marino, le titane, se la sono, proprio, giocata, con una, delle capoliste. Andiamo, a vedere, naturalmente, cosa dice, questa, questa partita, infatti, in San Marino, era andato, la squadra di, di Venturi, è andata in vantaggio, proprio, con la solita, Raffaella Barbieri, veramente, al settimo gol, in campionato, per Raffaella Barbieri, al quindicesimo, poi, nel recupero, del primo tempo, la squadra, di, 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 ha trovato, il, il, pareggio, con, Luis, Daneman, Ericsson, nella ripresa, intorno, praticamente, al, quindicesimo, al, al sessantesimo, minuto, al quattordicesimo, arriva, il gol, Alissa, Bat, Batrip, Reyes, per il gol, vittoria, della, della Razza, quindi, veramente, vittoria, pesante, diciamo, che il San Marino, possiamo dire, comunque, nonostante la sconfitta, casalinga, esce, nettamente, a testa alta, bisogna dire la verità, non è uscito, cioè, veramente, la squadra, titanica, delle titane, naturalmente, contro la Razza, c'era il rischio, anche, di prendersi a goleada, e non è stata così, è stata, comunque, una partita, combattuta, andiamo, quindi, a vedere, la nostra, mitica, classifica, continua, naturalmente, il bracetto, in testa, con Ternana, al primo posto, naturalmente, con, con, con la Razza, seconda, a 33 per la differenza reti, poi, secondo posto, per Parma, il Parma, a 31 punti, Cesena, 28, poi, il Verona, il Verona, a 21, il Verona, a 21, insieme, a Genoa, a 17, sale, il Chievo, Women, poi, Brescia, a 15, diciamo, molto in caduta, il Brescia, l'ha reso, attenti, a 14, insieme, a Bologna, e alla Res Women, insomma, classifica, molto, molto corta, se vogliamo dirla tutta, Pavia Academy, 12, San Marino Academy, Freedom, 9 punti, poi, Tavaniaco, 4, e Povolo, Ravenna, ormai, veramente, non ha più niente da dire con questo campionato, un punto, insomma, andiamo a vedere, a vedere la prossima giornata, insomma, è una classifica, se vogliamo dirla, molto corta, se vogliamo dirla, dal, è molto corta questa classifica, se vogliamo dirla, dal, 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 dodicesimo, dal, quattordicesimo, posto in su, insomma, può capitare, veramente, di tutto, a parte, forse, veramente, le due, in testa, con, con il Parma, e Cesena, a, inseguire, insomma, vedremo, veramente, cosa succederà, nelle prossime giornate, andiamo a vedere, la, tredicesima giornata, non ci sono ancora segnati, anticipi, o posticipi, comunque, Arezzo Tavagnaco, Brescia, Bologna, Freedom, Cesena, Parma, Pavia, Ravenna, Women, Genoa, Rest, Women, Chievo, veramente, attenzione, Ternana, Lazio, Verona, San Marino, Academy, insomma, veramente, partite, importanti, se vogliamo dire, tutta, Brescia, Bologna, è molto interessante, per capire, cosa, per questo Brescia, non, in momento, proprio, positivo, poi, naturalmente, occhio anche, a Rest, Women, Chievo, se vogliamo dire, tutto, adesso, è molto, in forma, e, naturalmente, il match, è Ternana, Lazio, lo scontro, diretto, tra le due, praticamente, che guidano, la classifica, bene, ho chiuso, che dire, naturalmente, commentate questo video, mettete un mi piace, iscrivetevi, al Grazie per la Pasbar, noi, naturalmente, ci vediamo, venerdì, per presentare la serie A, perché, torna in campo, la serie A, e sabato, naturalmente, per presentare la tredicesima giornata della serie B, che dire, ciao a tutti e buona serata, viva il calcio femminile!